qui è un nuovo video tornati ma basta subro non lo restiamo conosco ecco e incominciamo il video e prima di incominciare ricordatevi iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale e lasciate un like comunque io sopporto a tutti quelli che mi seguono su youtube e ringrazio tutti veramente mentre sto in giro io ho palestra e u a 150 jam u doppio modo coberto ok u 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 s u u u u u u u Io giocavo alla beta a sto gioco, poi mi sposto. In carica. Allora, mamma mia, sto giusto adorando, ci sono anche 5, per favore, fa che questo mi non va sempre delle cimeraio. Come è di? E' un po' di sottotitoli. E' un po' di sottotitoli. E' un po' di sottotitoli. I un po' di sottotitoli. Oh! Au! Caricard. Oh,akteri, caricar. non si ma potenziarmi e così e così e così e così Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.